Oroscopo del giorno, venerdì 18 settembre 2020 Ariete Amore, sarà un giorno molto interessante per chi è impegnato sentimentalmente. Avrete voglia di dedicare tempo e attenzioni al vostro partner. Sentirete la necessità di sentirvi più sereni, liberi e allegri al fianco della persona che amate. Lavoro Gli impegni professionali spesso sono faticosi e difficili da gestire. Forse dovreste distrarvi un po'. Toro Amore Oggi sarete molto dediti alla relazione, per cui se avete il cuore impegnato avrete voglia di passione e dolcezza. Potrebbe essere anche arrivato il momento di fare un po' di carezza. Un po' di ordine tra i pensieri vi farà bene. Lavoro I progetti potrebbero richiedere una coordinazione migliore. Non sarà complicato gestire il tutto. Gemelli Amore In questo venerdì sarete particolarmente bravi con le parole. Direte cose giuste e lo farete con un buon temperamento. La sincerità prima di ogni cosa. Questo tipo di atteggiamento vi farà sentire più sollevati. L'esagerazione non servirà. Lavoro La comunicazione sarà un aspetto su cui potrete contare pure sul posto di lavoro. Cancro Amore In questa giornata non sarete troppo propensi a trascorrere tanto tempo con il partner. È probabile che sarete distratti da altro. Forse è qualche pensiero di troppo in mente. Vi concentrerete di più su voi stessi e sulle vostre esigenze. Lavoro Sarà possibile prendere delle decisioni, ma non è detto che sarà così semplice. Leone Amore Oggi potrete contare su delle buone stelle. Che siate single o impegnati in una storia d'amore, il comportamento di questa giornata vi avvantaggerà. Sarete tranquilli e sereni, con una grande voglia di vivere bene questo venerdì. Lavoro Potrebbe esserci qualche impegno di lavoro che vi pesa un po'. Forse è meglio lasciare perdere certi progetti. Vergine Amore Durante questa giornata vi impegnerete soprattutto sulla vostra persona e sui vostri impegni. Se avete una persona speciale al vostro fianco, non dedicherete troppe attenzioni e questo potrebbe portare a delle conseguenze. Occhio al modo di fare Lavoro Le energie di oggi vi terranno parecchi occupati. Una giornata perfetta per darsi da fare. Bilancia Amore In questa giornata di settembre vi sentirete a vostro agio e avrete un umore piuttosto buono. Questo atteggiamento positivo piacerà senza dubbio anche alle persone che si confronteranno con voi. Bene quindi pure le relazioni. Lavoro Agirete molto bene, saprete organizzare progetti intelligenti ma pure pratici. Scorpione Amore Probabilmente oggi sentirete il bisogno di non esagerare, di non oltrepassare determinate soglie. La premura non è mai sbagliata e questo vale pure per i rapporti di coppia. Avrete più tempo per riflettere sulla storia d'amore. Lavoro Questo non sarà di certo il momento di drammatizzare. Cercherete di tenere gli occhi aperti su ogni vicenda o situazione. Sagittario Amore Questa per voi potrebbe essere una giornata molto riflessiva. Capirete che non è il momento di azzardare passi affrettati. Arriveranno dei periodi migliori, in cui esagerare con azioni o comportamenti potrebbe non essere poi così sbagliato. Lavoro Sarà opportuno non superare i limiti nemmeno sul posto di lavoro. Bisognerà ragionare con la testa. Capricorno Amore Oggi vi sentirete molto sereni e appagati. Una giornata perfetta per godersi le emozioni a pieno. Nonostante questa apparente tranquillità, forse ci sono ancora dei piccoli problemi nella relazione di coppia. Per fortuna la prenderete bene. Lavoro Sarete bravi a gestire ogni impegno, anche nel caso in cui qualcuno cercherà di ostacolarvi. Acquario Amore In questa giornata sentirete la necessità di godervi e gustarvi momenti belli ed emozioni positive. Se siete impegnati a livello amoroso, sarà molto facile lasciarsi andare alla passione. Il partner apprezzerà il vostro fare dolce e attento. Lavoro Sarà un venerdì in cui avrete lo sguardo rivolto verso il futuro. Verso cose che, in fondo, non sono così lontane. Il coraggio non mancherà. Pesci Amore Probabilmente in questo periodo vi state sforzando un po' troppo per cercare di dare il vostro meglio. Lo state facendo pure con il partner. Non è detto che questa sia la scelta giusta. La vostra dolce metà potrebbe non apprezzare l'esagerazione. Lavoro Sarà importante misurarsi e non fare passi troppo veloci. Meglio agire con calma. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. essi Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione